Gabriele Montesano, una delle insegnanti e referenti del primo circolo didattico del Plesso Siani, quest'anno si conclude il progetto messo in campo per i ragazzi di questo rione? Sì, quest'anno si conclude dopo la prima manifestazione che c'è stata ad ottobre e concludiamo questo nostro percorso, questo nostro progetto a maggio con questa rappresentazione di scognizzi presso il Teatro Corona. Un progetto che vede coinvolta anche i genitori del Plesso che penso siano rimasti contenti dell'impegno dei propri figli? Sicuramente, sono rimasti entusiasti di questa iniziativa, hanno collaborato a 360 gradi e continuano ancora in questo loro impegno proprio per portare ad un buon fine questo nostro progetto. Avete avuto questa volta la collaborazione dell'amministrazione comunale? Sì, abbiamo avuto grazie soprattutto al sindaco e ad altre istituzioni che hanno messo a disposizione tutti gli strumenti possibili affinché questo progetto si realizzasse e ci siamo riusciti alla grande, sicuramente anche grazie all'impegno della signora, la referente di questo progetto che è la signora Catalano, Imma Catalano e speriamo che vada a buon fine come la prima rappresentazione che c'è stata.